Preparate le casse. Adios, amico. Ehi, di, forse non hai capito che non ci piace vedere bambocci in giro. Dov'è il tuo mulo? Te lo sei lasciato scappare? Ah, sì, proprio di questo ero venuto a parlarvi. Ci è rimasto male. Chi? È il mio mulo. Se l'è presa per quei quattro colpi che gli avete sparato tra le zampe. E adesso non sente ragioni. Ehi, ci stai prendendo in giro? No, no, io ho capito subito che volevate scherzare, ma lui invece si è offeso. E ora pretende le vostre scuse. Fate molto male a ridere. Al mio mulo non piace la gente che ride. Ha subito l'impressione che si rida di lui. Ma se mi promettete di chiedergli scusa, con un paio di calci in bocca ve la caverete. Volevo dire quattro, Cass. Oltre, ma... Oltre... Oltre.